Sono Sardis Artori Luciano e sono lo chef del ristorante Brunello presso l'Otel Regina Baglioni di Roma. Il piatto che vi presento sono ravioli al ripieno di carciofi alla romana su uno zabaione di carbonara e guanciale croccante. Due piatti tipici di Roma, il carciofo alla romana e la carbonara. Quindi andiamo a preparare il ripieno del raviolo cuocendo il carciofo con olio, prezzemolo, lardo e pane. Cuociamo 10 minuti, tagliamo il carciofo, lo assembliamo a ricotta di pecora, pecorino, sale e pepe. Andiamo a formare i ravioli, dopodiché cuociamo per cinque minuti circa. Rompiamo un tuorlo e un uovo intero. Lo andiamo a cuocere a bagnomaria formando uno zabaione. Mettiamo un po' d'acqua di cottura in modo da rendere spumoso lo zabaione. facciamo soffriggere il guanciale fino a renderlo croccante. Facciamo sciogliere anche un po' di burro dove andremo poi a far saltare i ravioli. Aggiungiamo un po' di pepe nello zabaione, un poco di pecorino grattugiato, romano logicamente. Quando il composto è spumoso tagliamo i ravioli, colgariamo con pecorino, tagliamo il guanciale, andiamo a disporre lo zabaione sul piatto, disponiamo i ravioli, mettiamo il guanciale croccante, terminiamo il piatto con una grattugiata di pecorino romano e una spolverata di pepe. grazie